Ci rivediamo dopo il video in sezione profile, ci ributtiamo su quello che ci ha detto la Serie A tra sabato e domenica, Serie A che si gioca anche oggi pomeriggio con il match del Milan, con Bologna-Napoli, con Fiorentina-Genoa, quindi un piatto gustoso anche oggi di Serie A, dove noi invece andremo ad analizzare le prime sette, le partite del weekend. Prima lasciatemi come sempre ringraziare i nuovi iscritti, vi invito a iscrivervi, è semplicissimo, con un account Google, basta schiacciare iscritti sotto al video ed è fatto, vi invito a lasciare un like, un commento a proposito di commenti, sia per un feedback sul video, sia volevo ringraziare chi mi ha contattato in privato per alcuni consigli, quindi dai prossimi video, al di là del video della sezione profile che esce mercoledì, vi ricordo l'appuntamento settimanale, vi do un indizio, non vi svelo il nome del giocatore, è un giocatore che negli ultimi 15 anni però ha dato tanto a livello internazionale e che gioca attualmente nella nostra Serie A, quindi un mix tra passato e presente. Questa volta, ecco, tornando un attimo prima, volevo ringraziare chi mi ha dato il consiglio e chi è sulla piattaforma YouTube da molto più tempo, con più successo del sottoscritto, quindi dai prossimi video ci organizzeremo per avere anche delle grafiche con le quali correlare e rendere sempre più interattivo la visione di questi approfondimenti, approfondimenti che parlano della Serie A, partiamo dalla fine questa volta, quindi Serie A che si è giocata tra sabato e domenica, domenica sera si è chiuso con il posticipo del Gewisse Stadium di Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Inter, 1-0-0 che qualcuno ha definito casuale, forse è proprio il caso di definirlo così perché all'occasione ci sono state, protagonisti Musso e Andanovic che si è preso una rivincita, facciamo una premessa per il video di oggi ma per il video di tutto questo periodo, ci sono state tante assenze per Covid in quasi tutte le squadre di Serie A, ecco, ammettiamo di dirlo, si sanno quali sono, è inutile sottolinearlo sempre, l'Atalanta ne aveva parecchie, Gasperini ha, tra virgolette, snaturato il suo modo di giocare, una difesa 4, Muriel unica punta, io un debole per il colombiano, è facile intuirlo, tra l'altro io ho smentito un altro falso mito che sia lento, dopo l'errore di Bastoni ha preso una ventina di metri in velocità in seguito a fatica da screen, era stato anche intelligente, dopo i due gol in diagonale con l'Udinese ha cercato di beffare Andanovic sul primo palo, bravo lo sloveno, però Muriel protagonista per un'Atalanta che ha creato, ha avuto l'occasione di vincerla, anche di perdere la genialata finale di Barella col tacco, liberare D'Ambrosio è una perla assoluta, Dzeko ha sprecato qualche occasione, Lautaro è entrato solo nel finale, l'Inter ha patito, come era prevedibile, comunque ha pagato i 120 minuti dispendiosi a livello psicofisico in maniera pesante in settimana contro la Juventus, l'Atalanta aveva giocato in Coppa contro il Venezia, ha potuto gestire il 2-0 contro la squadra di Paolo Zanetti, io continuo a vedere però un'Inter leggermente avvantaggiata per il suo obiettivo rispetto al Milan, che è la vera antagonista dello Scudetto, il Milan può sorpassare virtualmente battendo lo Spezzi oggi di un punto l'Inter che rimane con una partita in meno, l'Atalanta io la vedo ancora avanti, ha un punto in più una partita in meno rispetto alla Juventus, però la vedo avanti, è la formazione di Allegri, formazione di Allegri che ha vinto nel sabato delle conferme, così mi piace definire le tre partite giocate sabato, partendo anche qua dalla fine, dalla partita delle 20-45, Juventus 2-0, una vittoria in stile allegriano, diciamo una vittoria solida, senza straripare, un gol per tempo, Paolo Di Bale vedremo in futuro, quale sarà il futuro dell'Argentino, inutile fare preview in questo caso a gennaio, nel 2-0 Meccani che sta diventando un fattore, secondo me Meccani è un centrocampista in questo momento imprescindibile per Allegri, ha inserimenti, ha una grande tecnica di base che se ne dica, lo statunitense sta diventando un fattore nella Juventus di oggi, secondo me può essere utile anche nel futuro, un futuro che non può prescindere dalla partecipazione alla prossima Champions League, la Juventus sta dando continuità, c'è un dato molto interessante che dice che dalla dodicesima giornata del 30 ottobre la Juventus ha fatto gli stessi punti dell'Inter, 7 più del Milan ha staccato sensibilmente Atalanta e Napoli, questo lo dice lunga sul lavoro di Allegri dopo il primo terzo di campionato, che lavoro è stato? Un lavoro dove di miglioramenti del gioco ce ne sono stati pochi, però come detto stradando continuità, vince le partite che deve vincere, fa i punti che le servono per arrivare dove? In Champions League, poi per fare una Champions League da protagonista, per in futuro, al di là del mercato, vivere ancora in orbita scudetto, secondo me serve un altro upgrade, che la Juventus non sta facendo e secondo me nemmeno sta costruendo, però per arrivare in Champions fai i punti che le servono, alla lunga l'esperienza e la tradizione, che spesso sono parole magari non troppo approfondite, possono fare la differenza come l'anno scorso per la formazione bianconera per tornare in Champions League, poi per tornare grandi come si era fino a 3-4 anni fa sarebbe qualcos'altro, però per come si era messa la situazione anche solo tornare in Champions League può essere alla luce dell'inizio tragico, calcisticamente parlando, della squadra di Allegri, è un buon risultato, vedremo poi la sfida col Viglia Reale, è in corso in Coppa Italia, ha perso la Supercoppa, sta cercando di dare un colore alla sua stagione, la formazione bianconera, soprattutto in un lotto a Champions che secondo me non vedrà protagonista, la Lazio di Maurizio Sarri, che ha vinto una partita che per tanti motivi doveva vincere a Salerno contro la Sellerinitana, 3-0, però dentro questo 3-0 ci sono due confermi importanti per il tecnico toscano, uno, Immobile è uno bomber formidabile in Italia, ha la media di 0,72 gol con la maglia della Lazio, vuol dire che una partita sì, una partita no, è qualcosa di più, parte 1-0, è un fattore, non è l'attaccante ideale per Sarri, non è Eguain che lega il gioco, non ha quella qualità, preferisce dare la profondità, probabilmente non è il prototipo ideale per Sarri, come c'è entra avanti, però a parte ti garantisce 20-25 gol all'anno e la Lazio non può prescindere da lui in questo momento, come non può prescindere da quello che secondo me è uno dei centrocampisti più forti del mondo, Milinkovic-Savic, anche se contro la Sellerinitana, ha dimostrato di avere fisicità, quantità e qualità, livelli top e io vi chiedo se secondo voi non può essere considerato dai primi 5 centrocampisti al mondo, è stata una sua scelta rispettabilissima, anzi condivisibile, quella di rimanere alla Lazio, onorabile, però Milinkovic-Savic secondo me, a parte Real Madrid e pochi, pochissimi altri centrocampi, non lo vedo non titolare in nessun'altra squadra che lotta per vincere la Champions League, davvero, Milinkovic-Savic è impressionante da anni e 7 gol, 8 assist, con Sarri forse non si sono presi subito ma se incanalato nella maniera giusta questo rapporto può far fare l'ultimo salto di qualità al centrocampista serbo anche nella rincorsa attuale per Europa League e Conference League della Lazio che dovrà vedersela con il Torino che ha vinto, ha dato continuità la vittoria 4-0 contro la Fiorentina, tre vittorie nelle ultime quattro, un Toro che dopo Breca lo trova i gol di Pride, qualità in essenza di un bomber vero come può essere l'ex canale appunto immobile, un Toro che ha 31 punti però può cercare di rimanere attaccato, io credo farà molta fatica alla lotta europea come il Verona che ha fatto 30 punti, ha vinto nel anticipo Champagne, un aperitivo a Don Perignon verrebbe da chiamarlo, quello del Mappei Stadium delle 12.30 di domenica, Sassuolo 2, Verona 4 continuità anche per Scamacca, grande gol a triplet di Barak che sta diventando sempre più grande giocatore all'età giusta, 27 anni anche per fare un ipotetico salto di qualità, al di là dei tre gol di ieri una stagione assolutamente da protagonista con Tudor in panchina, anche Caprari sta vivendo uno dei suoi momenti migliori se non il momento migliore in carriera, Verona e Sassuolo che si staccano definitivamente al di là della sconfitta Sassuolo sta dando risposte, il Verona anche punti, due punti più dei neroverdi dalla lotta salvezza come l'Empoli che ha pareggiato a Venezia, al Penso, una sfida comunque che riporta punti alla squadra di Andrezzoli, 1-1, il Venezia mette un punto che muove classifica, dà morale l'assist l'ha firmato Luis Nani, tornato in Italia, una stagione in chiaro-oscuro da Lazio è arrivato con delle motivazioni, Zanetti aveva detto non ha minuti nelle gambe però è entrato, ne ha giocati 20-25, ha messo un assist a una velocità di pensiero più alta dei suoi compagni, inevitabile, l'ha messo anche l'allenatore del Venezia a fine partita lui può essere un fattore per la Salvestre, attenzione ai 16 partite, ai 4-5 mesi di Serie A che ci regalerà Luis Nani, Venezia 18 punti in attesa oggi di sapere cosa farà il Genoa, in casa della Fiorentina, come ripeto c'è Milan, Spezia e c'è Bologna-Napoli, una sfida gustosa, molto interessante il Napoli che deve vincere se vuole rimanere attaccato al treno scudetto il Bologna che può entrare in un discorso europeo discorso europeo che vede protagonista sicuramente la Roma di Murigno 35 punti, come la Lazio credo che non si riattaccherà quasi impossibile se編mo a rivedere la Roma veramente in lotto per il treno Champions League, però può crescere la Lazio di Maurizio Sarri sta crescendo la Roma di Murigno, con l'arrivo anche di Sergio Oliveira che non è un campione ma può dare ordine Murigno lo vuole, lo stima può continuare a trovare maturità, a trovare punti ha trovato i primi tre punti di quest'anno, di questo 2022 Murigno inserrà il gol di Sergio Oliveira una formazione iniziale molto interessante quella di Murigno fuori vera e tu Sergio Oliveira Pellegrini Michi Tarjan Zanola Fegna Abram una formazione sulla carta molto votata all'attacco Murigno ha detto sì, potevamo vincere 5-6-0 abbiamo rischiato l'1-1 può essere anche vero però non è un merito ecco, i gol sbagliati a volte vengono usati come alibi non è un merito le partite vanno chiuse la Roma ha rischiato ma ha trovato la vittoria il Cagliari due vittorie nelle ultime tre ha provato a giocarsela reagendo più che agendo perché il Cagliari di Mazzari finora è stato questo reazione più che azione aspetta poi cerca di rimanere in partita come era successo a Torino con la Juventus lo ha fatto ieri ha sfiorato il pareggio con Joao Pedro Roma che sale a 35 punti il Cagliari a 16 rimane matematicamente certo e anche moralmente molto dentro ora alla corsa salvezza sta arrivando a Cabe faremo anche un focus sul mercato nelle prossime settimane un certo capista molto interessante che ha giocato in giro nei Champions League con lo Young Boys contro Atalanta e Manchester United e Villareal vedremo quale sarà il futuro del Cagliari turno che si concluderà oggi con le tre partite che mancano magari ci vediamo domani o addirittura magari nel post partite per un rapido assunto sulla chiusura della giornata e poi ci rivediamo mercoledì per il video della sezione Profile una sorpresa Grazie a tutti